Salve ragazzi, siete in compagnia del vostro Mazza Zalve e oggi andiamo a vedere una delle lezioni più importanti del corso di trading sportivo Betting and Change, la lezione numero 10 e parliamo oggi appunto delle formule del trading. Mi anticipo che la maggior parte delle quote e degli esempi proposti sono riferite al calcio ma una volta capito il concetto possono essere, queste formule possono essere utilizzate per qualsiasi altra attività di trading. Ripetiamo il concetto che avevamo anche trattato l'ultima volta e in pratica bancare, cioè giocare l'aere, un evento significa esattamente puntare l'esatto contrario di quello bancato e questo oramai lo avete acquisito. Bancare un pareggio a quota 3 infatti significa giocare esattamente la doppia chance 1,2 a quota 1,50. Come calcoliamo questi importi? Trattando appunto la quota della inversione. Bancare, vedete qui per trovare la quota in back, non dobbiamo fare nient'altro che la quota lei diviso la quota lei meno 1. Questo vale per tutte le inversioni, ovviamente per trovare una quota lei avremmo il capovolgimento della quota opposta. Quindi, quota lei diviso quota lei meno 1 equivale appunto al puntare in back anche a quota 1,50. La formula 3 diviso 3 meno 1 quindi 3 diviso 2 1,50. Mancare un pareggio a 3 vuol dire nient'altro che puntare 1,2 la doppia chance 1,2 a 1,5. Ovviamente, oltre alla quota dobbiamo riuscire anche a calcolare le puntate occorrenti e gli stake che servono per per fare questa operazione. 100 euro a quota 3, la IA di a quota 3 in un pareggio equivale con una puntata di 200 euro sulla chance 1,50. Per calcolare la puntata, la puntata val in back in questo caso è la puntata lei per la quota lei meno 1. Quindi, in questo caso, 100 euro. Avevamo 100 euro in lei a quota 3, adesso abbiamo una puntata di 100 euro moltiplicato 3 meno 1 e equivalgono esattamente a 200 euro da puntare. Quindi, puntiamo 200 euro a quota 1,50 sulla doppia chance 1,2. Come leggete, giocare in back 200 euro a quota 1,50 la doppia chance 1,2 e offrire il pareggio a quota 3 per 100 euro è la stessa identica cosa. Quindi, le formule delle inversioni le abbiamo viste prima. Dobbiamo fare la quota diviso la quota meno 1 e sappiamo esattamente la quota opposta. Invece per le puntate facciamo la puntata dell'evento che abbiamo per la quota meno 1 dall'altra parte. Quindi, in back è la puntata lei moltiplicata la quota lei meno 1. In lei è la puntata back diviso, è moltiplicata la quota back meno 1. Questo penso che sia anche piuttosto semplice. Andiamo invece a complicarci un po' le cose calcolando l'utile. L'utile non dobbiamo fare nient'altro che quota back diviso quota lei. Quindi, se io per esempio ho una quota 10 e diciamo una 0,0 a quota 10 pre-live e dopo 5 minuti di discesa voglio tradarlo mentre sta a quota 9,15, non devo fare altro, come dicevamo prima, 10 diviso la quota del lei, 9,15, abbiamo assolutamente un gain di 109,29, quindi del 9%, 9,29%. Una volta appurato questo utile, questa percentuale, quindi questo 9,29%, diventa anche semplice realizzare le varie equazioni per andare a conoscere i valori che a noi interessano. Partiamo appunto con ottenere un utile di 10% di 10 euro, come è indicato sopra. Dobbiamo fare nient'altro che andare a cercarci la puntata da mettere in back, quindi per realizzare. Sappiamo che la nostra percentuale è del 9,29%, dobbiamo andare appunto, per ottenere un utile, quindi per ottenere i nostri 10 euro di utile, andare in primis a vedere lo stake da utilizzare per la nostra puntata in back. Conosciuto questo e conosciuto l'utile che ci siamo prefissati, diventa semplice anche conoscere l'importo della layata che andremo a fare nello stake di uscita. Quindi, puntata back, dobbiamo fare la vincita diviso la percentuale per utile, in questo caso la vincita prefissata 10 euro diviso questo 9,29%, che è appunto, come dicevamo, la quota del back diviso la quota del lay. Questo 9,29% ci dà appunto una puntata di 107,64. Per la puntata del lay basta aggiungere, come sappiamo, i 10 euro di utile prefissato e abbiamo 117,64, quindi puntata back più utile, 107,64 più 10, 117. Possiamo arrivare anche a questa formula, senza fare questa somma di 10 euro, ma facendo semplicemente l'utile moltiplicato la puntata back. Quindi 109,29 moltiplicato 107, 109,29% moltiplicato 107 ci dà appunto la puntata del lay, che equivale a 117,64. Passiamo a un caso pratico, quando siamo in live ovviamente ci capiterà spesso di prefissare una discesa per esempio di un qualsiasi risultato esatto, per esempio 1-0-0, 1-1-0, 1-0-1, o anche un semplice puntata sul back del pareggio, che in assenza di goal appunto è soggetto a scendere, così come il risultato esatto, così come l'under. Per poi decidere successivamente magari di andarla a rivendere. Quindi, avendo la quota iniziale del back e avendo la nostra percentuale di utile, diventa semplice trovare anche la quota del lay in uscita, in pratica. Quindi per il calcolo, come vedete rappresentato, dobbiamo fare quota lay ricavabile dalla quota back diviso 1 più l'utile, quindi equivale a 3, che è la nostra quota in back, diviso 1 più la percentuale di utile che ci siamo prefissi, quindi 10%, in questo caso diviso 1 e 10, e ci dà esattamente la quota di uscita in lay. Quindi per realizzare il nostro 10% di utile, dobbiamo entrare a quota 3 e uscire a quota 2-7-2-7. Facciamo la controprova che è anche la formula per calcolare, una volta che uno ha l'ingresso in lay, calcolare il nostro target per l'uscita, appunto, ricomprando la quota in back. Quindi la quota back corrisponde a quota lay per 1 più l'utile, quindi 2-7-2-7 per 1 più 10, quindi 2-7-2-7 per 1 e 10, e ci dà esattamente 3, che è la nostra quota di uscita. Nel quel caso, appunto, andiamo a rivendere una layata in lay per un target in profit uscendo in back. Prima di passare alla formula successiva, vi pregherei di tornare indietro nel video se non avete ancora compreso le varie formule trattate finora. anzi, vi consiglierei di ripartire dal video direttamente e avere sotto mano un foglio di carta e segnarvi queste formule facendo anche vari esempi per farvele rendere vostre in pratica. Solo quando riuscirete a essere padrone di queste formule, è vero che ci sono gli applicativi online che è possibile anche in maniera semplicissima andare a immettere questi dati e automaticamente le varie applicazioni vi daranno gli stessi contenci. Ma è bene, iniziando questa attività, che voi queste operazioni basilari le impariate a memoria perché vi servono anche in caso di pianificazione come abbiamo visto nel video numero 3 di questo corso. Quindi riuscire a, partendo dalla propria strategia, a pianificare le varie coperture andando ad analizzare quello che abbiamo dalla parte opposta. Quindi se abbiamo un back di una determinata quota sapere il campo opposto da andare a pianificare come abbiamo visto a punto nella lezione. Quindi vedere immediatamente o inserire altre coperture lasciando scoperto quello che diventerà il nostro utile e muoversi con padronanza in questa pianificazione appunto. Nelle formule precedenti abbiamo dato per appurato la domanda principale. Quanto debbo puntare avendo una quota conosciuta per raggiungere un utile prefissato? Per farciò basta ovviamente se ho l'opzione di realizzare un utile 10 euro e ho una quota 1,45 sapete benissimo anche per chi proviene dall'ambito del betting appunto per realizzare questi 10 euro devo avere sotto mano la formula di 10 euro diviso diviso la quota meno 1 quindi l'uno consideratelo come la vostra unità di punta quindi state di fatto moltiplicando per 0,45 il vostro utile e per avere appunto 10 euro di utile a quota 1,45 dobbiamo avere una puntata in back di 22,22 euro basta fare come vedete 100 diviso 0,45 ora andiamo a complicarci un po' la situazione perché presupponiamo come in questo caso di tentare di realizzare un utile prefissato e avere anche una percentuale per recuperare la spesa inutile che ve la solleggere ve la appuntate, ve la ricopiate e avete ben chiaro in che consiste appunto questa formula questa non dovete impararla a memoria ma su un foglio Excel diventa semplice anche utilizzarla per i vostri calcoli dovremmo aver finito tranne il riepilogo in pratica che la puntata del recupero viene anche così semplicemente calcolata ci soffermiamo nella parte finale appunto di questa serie di formule per rivadere anche un concetto che vi serve anche per l'utilizzo anche di una serie di recuperi in successione di progressione in pratica appunto per recuperare questo è evidenziato sotto in pratica per andare al recupero basta fare la puntata precedente moltiplicato il recupero diviso la quota ovviamente meno il recupero stesso quindi la puntata precedente era 11,45 moltiplicata 0,75 che è il nostro recupero diviso la quota meno il recupero stesso quindi 5 meno 0,75 2,02 rifate i calcoli sopra e vedete che in maniera semplicistica l'abbiamo ridotta in questa stringa di programmazione non vi aggiungo nient'altro perché vado a complicarvi ulteriormente le situazioni qualcuno la riterrà inutile conoscere solo nel maripadisco che averle a portata di mano vi permetterà di pianificare in maniera ortodossa la vostra attività e quindi la vostra operatività stessa chiudiamo qui ripeto padre come esercizio l'applicazione di queste formule in un foglio Excel e fate i vostri conteggi per vederne l'esattezza fate massima attenzione perché qui basta una virgola e una parte di formula saltata per avere in errore tutti i conteggi la finiamo qui chiudiamo il video augurandovi ancora un buon proseguimento e fatemi sapere se eventualmente trovate difficoltà in questa applicazione anche se dovrebbe essere piuttosto elementare un saluto dal vostro amico Max Azzaro